Oggi scopriamo uno dei tanti aspetti particolarmente gustosi e golosi legati all'attività di Conf Cooperative Fedagri. Questa Casa della Cooperazione di Torino di Corso Francia 329 allarga le sue possibilità e quindi permette una fruizione maggiore dei prodotti cooperativi anche attraverso un nuovo locale che in parte esposizione e degustazione, in parte vendita diretta, diciamo, quindi degustazione sul posto dei vostri grandi prodotti cooperativi. Esatto, sì, la Casa della Cooperazione diciamo che dà l'opportunità attraverso il qui da noi torinese di far assaggiare i prodotti di tutte le cooperative piemontesi e soprattutto volendo anche di poterli acquistare direttamente. Il qui da noi è questo progetto che è partito a livello nazionale e che come Fedagri Piemonte stiamo in qualche modo, come dire, testando. Abbiamo avviato una buona campagna di promozione che è partita già da un po' di tempo, soprattutto nel Cuneese, che vanta un maggior numero di punti vendita cooperativi. E adesso, per il periodo natalizio, diciamo che lo stiamo incrementando soprattutto sulla città di Torino perché, si sa, è comunque un bacino molto importante di fruitori che lo utilizzano in città ma anche e soprattutto nelle varie province. Ripetiamo il concetto di qui da noi che è un concetto di trasparenza, di genuinità e di vicinanza, o meglio, di abbattimento delle barriere tra produttore e consumatore. Questa è una filosofia vincente che le cooperative portano avanti da tempi non sospetti. Non avete iniziato l'altro giorno, sono molti anni che lo fate. Assolutamente sì, diciamo che adesso si sta soltanto sottolineando maggiormente, data anche l'esigenza del fruitore, di trovare in maniera più diretta i prodotti. Il qui da noi sottolinea in particolare tutti i punti vendita cooperativi. L'idea è quella di creare, diciamo in futuro perché non è così immediato, l'opportunità di trovare nei vari punti vendita non soltanto i prodotti cooperativi regionali, bensì anche i prodotti cooperativi nazionali perché il qui da noi propone un discorso territoriale ma è anche molto sentito e molto forte l'idea del prodotto nazionale. D'altra parte non è che possiamo sempre proporre esclusivamente le cose di casa nostra ma è interessante e soprattutto intrigante per il consumatore entrare in un punto dove si possono scoprire anche i prodotti di qualità di livello. Qui insomma sicuramente lo si può fare nei nostri punti vendita. Tra l'altro c'è anche la possibilità andando ad acquistare nei punti vendita qui da noi di scoprire la realtà delle cooperative, le famiglie che sono la base di queste cooperative, entrare direttamente in contatto con i produttori. Questo non è così banale come sembra, nel senso che comunque aiuta a capire anche meglio la produzione a monte e quindi a valorizzare ulteriormente ciò che si acquista. Dietro ogni cooperativa ci sono molti soci e dietro ogni socio c'è una storia, c'è una famiglia, c'è la passione per il proprio territorio. D'altra parte i prodotti di qualità se esistono e proprio grazie a queste passioni per le tradizioni e per il territorio che si coniugano sempre benissimo e che sono quelle che in qualche modo rendono forte il nostro paese continuando a coltivare non soltanto la terra ma a coltivare anche quello che è veramente lo spunto delle tradizioni che fanno sì che i nostri prodotti si distinguano non soltanto a livello nazionale ma a livello internazionale. Ne dà prova il fatto che comunque spesso sentiamo parlare del nostro prodotto in giro per il mondo dai vini ai formaggi e ovviamente a tanti altri generi e questo non ci fa che piacere. L'Italia deve distinguersi per questo perché il territorio è piccolo, abbiamo poco spazio e in questo poco spazio dobbiamo veramente ottenere il meglio ma secondo me ci stiamo riuscendo benissimo. Quindi non ci resta che fare un augurio, un brindis ideale a questo nuovo bar punto vendita qui da noi nella casa della cooperazione, tutt'uno insomma anche la degustazione e la possibilità di vendita. Assolutamente sì, anzi aspettiamo insomma chiunque abbia curiosità e piacere di incontrare le cooperative piemontesi per ora e ci auguriamo e auguriamo a tutti un buon Natale e soprattutto un 2012 particolarmente positivo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.